Sì! Abbiamo vinto? Forse sì, mi sembra di vedere qualcosa sul fondo. Io non credo ai miei occhi! Abbiamo vinto! Sì, siamo ricchi! Non siamo soltanto ricchi, siamo diventati super miliardari! Come quei grossi felini della finanza! Sì, da oggi vivremo come i felini che fanno finanza! E nessuno riuscirà mai e poi mai a fermarci! Chi sarà? È la IRS! La IR cosa? La IRS, ovvero Servizi e Riscossioni Interne. È l'agenzia governativa incaricata di riscuotere le tasse. E queste tasse cosa sono? Grazie di averlo chiesto! Sono i soldi che diamo allo Stato per i servizi essenziali, come la cura delle strade, i pompieri, gli ispettori sanitari, la nettezza urbana e molto, molto altro. Io non voglio che lo Stato si prenda i miei verdoni! Già, ce li siamo sudati aprendo il sacchetto e mangiando le patatine. Tranquilli, la IRS non si prenderà tutti i nostri soldi. Ne prenderà la metà! Aaaaaaah! Cosa? Come sarebbe al dire metà! Questa gente non si vergogna di essere così avida! Ehi, guardate che anche dopo aver pagato le tasse ci resterà una quantità di denaro immensa! Scordatelo, io non sborso un centesimo! Quegli agenti governativi sono il male assoluto! Io dico di sbarazzarcene subito! Ottima idea, Stella! Azarat, Metrion, Zintas! Cosa hai fatto, Corvina? Ho creato un mondo in cui la IRS non esiste. Ma... ma in questo modo? Nessuno pagherà le tasse e non avremo più alcun tipo di servizio pubblico! Per me va bene. Non abbiamo bisogno di servizi pubblici. Già, useremo i soldi molto meglio di come farebbero i tonti del governo. Chi vuole fare un po' di... spese folli? Che sicuro io!